Vogliamo parlare ora di una bella ed importante realtà, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, una realtà storica che si è imposta anche nel sociale attraverso tante iniziative. Parleremo nello specifico di quella realizzata a favore delle popolazioni dell'Ucraina, donna calore, questo appunto il tema, tra l'altro vediamo attraverso il sito internet alcuni dettagli circa appunto le attività del Corpo Italiano di Soccorso, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in eventi come importanti emergenze nazionali, terremoti o alluvioni che hanno colpito la penisola e poi ancora il giubileo del 2000, i funerali di Giovanni Paolo II. E torniamo a parlare dell'Ordine di Malta proprio in occasione di questa iniziativa. Io saluto Gabriele Tosi, che è il coordinatore nazionale comunicazione del CISOM, dandogli il benvenuto. Buongiorno, benvenuto tra noi. Buongiorno e grazie, grazie infinite. Sono ora ovviamente di preghiera a queste dedicate soprattutto al Papa Emerito Benedetto XVI. Ecco, un pensiero da parte vostra. Beh, allora, ovviamente sono anche per noi, essendo l'Ordine di Malta, come dire, un'emanazione della Chiesa, un'ordine della Chiesa Cattolica. I 900 anni dell'Ordine sono stati celebrati in San Pietro proprio dal Papa Emerito, che ha atteso di fare quel passo importante che poi ha fatto, di lasciare il pontificato. ha atteso quella data e ha voluto celebrare e celebrare con noi i 900 anni di storia dell'Ordine di Malta, di attività umanitarie in tutto il mondo. E questo per noi è un tema molto importante che ci lega profondamente al Papa Emerito, che purtroppo è scomparso pochi giorni fa. È un ricordo importante per noi questo. Momenti di memoria, di ricordo di preghiera, ma soprattutto di attenzione verso le necessità delle popolazioni che soffrono. In questo caso appunto si innesta una delle vostre tante iniziative, ma ripercorriamo un po' in sintesi la storia del vostro corpo. Dunque, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il CISOM, nasce 52 anni fa. E nasce 52 anni fa per volere di alcuni giovani volontari e membri dell'Ordine di Malta. L'Ordine di Malta è un'istituzione umanitaria globale che ha, come ho detto, oltre 900 anni di storia. È un ordine della Chiesa Cattolica ed è presente in oltre 120 paesi con missioni e attività umanitarie. È un ordine che ha sostanzialmente inventato e organizzato il sistema di assistenza alla popolazione da diversi secoli e ha una serie di agenzie di soccorso internazionali. In Italia questa agenzia di soccorso si chiama CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Nasce sulla necessità di intervenire e di partecipare ai terremoti degli anni 60 e 70 e si organizza man mano come Corpo di Protezione Civile con una forte indicazione di carattere sanitario. Oggi il CISOM è presente in tutta Italia, ha una direzione nazionale a Roma che poi organizza i raggruppamenti regionali. Quindi siamo in tutte le regioni italiane e siamo in oltre 120 città italiane. In questi ultimi anni il CISOM è aumentato in termini proprio di organico. Siamo quasi 4.000 volontari e di questi ci sono oltre 600 tra medici, infermieri e psicologi dell'emergenza. Abbiamo dei protocolli di intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, con la Marina Militare, con la Guardia di Finanza, con la Guardia Costiera e Capitaneria di Porto, insieme ai quali organizziamo e partecipiamo a quelle che sono tutte le più importanti maxi emergenze nazionali degli ultimi anni, i terremoti dell'Aquila, dell'Emilia e poi del centro Italia nel 2016. Siamo presenti nei cani di Sicilia, sull'unità navale della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto per il soccorso in mare ai migranti. Abbiamo nostri medici soccorritori sugli elicotteri delle basi di Sarzana, degli elicotteri della Guardia Costiera e questo a carattere più nazionale. A carattere invece più locale, ogni città e ogni raggruppamento regionale organizza i propri sistemi di soccorso a seconda di quelle che sono le necessità di quel territorio. Io faccio parte del raggruppamento Lombardia, nello specifico di Milano, oltre ad occuparmi della comunicazione nazionale. A Milano abbiamo per esempio il tema delle unità di strada, quindi andiamo a dare assistenza. L'unità di strada in realtà c'è in tantissime città italiane, ma ancora più nello specifico, per esempio a Milano abbiamo il tema del Bosco di Regoredo, che è una piazza di spaccio estremamente importante, e sulla quale da quattro anni noi siamo presenti due o tre sere alla settimana con l'ambulatorio mobile, agganciamo i ragazzi per portarli in comunità. Quindi ogni città, ogni comune ha delle specifiche richieste e necessità di carattere umanitario. E quindi le organizziamo in questo modo. E sicuramente in questo ambito così articolato, questa attenzione alle diverse realtà di degrado, di sofferenza, dove c'è necessità di soccorso e di aiuto, non può mancare anche il tema della formazione nell'ambito del CISOM. Esattamente, esattamente. La formazione è fondamentale perché mette in sicurezza sia l'utente del servizio sanitario, del servizio di protezione civile, che il volontario ovviamente. Noi siamo tutti volontari, ma siamo tutti volontari formati. Abbiamo alcuni tipi di sistemi di formazione di base che sono obbligatori per tutti. Quindi il nostro corso 118 col BLSD e il corso base di protezione civile. Queste sono la base. Su questi poi si innestano altri tipi di formazione. Se si vuole, per esempio, percorrere la strada di unità cinofile, si può fare i corsi di unità cinofila. Si possono fare i soccorsi da elicottero, si possono fare i soccorsi, i sistemi di telecomunicazione, che in caso di max emergenza sono ovviamente fondamentali per tenere in contatto le varie realtà di soccorso. Sono tanti i sistemi di formazione, ma sulla formazione dedichiamo veramente tantissima attenzione e tantissimo tempo. Il volontario entra, come dice sempre il nostro Presidente, entra come volontario e esce come volontario. Quando però è volontario, lì si deve impegnare assolutamente nella formazione personale e nel dedicare tempo agli altri. È un percorso molto interessante. Abbiamo ragazzi che iniziano a partecipare alle attività del CISOM dai 16 anni in poi e poi non c'è un'età massima dall'altra parte, diciamo così, nel senso che ognuno con la propria esperienza o con la propria esperienza anche professionale che può portare nel CISOM può essere veramente di grande aiuto e fare la differenza. E questa differenza la si può fare non soltanto verso chi ci è accanto, proprio in prossimità, ma anche e soprattutto per chi soffre e ha bisogno di aiuti vivendo più lontano da noi. È proprio il caso dell'Ucraina che sta vivendo questa immane tragedia già da un anno ormai quasi. In questo caso c'è questa bella iniziativa del CISOM dedicata proprio ai mesi più freddi quando c'è necessità di calore. In cosa consiste? Allora sì, noi stiamo presenti sul fronte ucraino da febbraio, quindi abbiamo seguito tutte le fasi di questo conflitto. L'Ordine di Malta è uno Stato sovrano e quindi ha un corpo diplomatico, il che consente di avere delle relazioni a livello diplomatico, a livello di ambasciate, con i paesi nei quali operiamo. L'Ordine di Malta è un'istituzione, come ho detto, globale, quindi per noi che il tema sia in Italia o sia ad Haiti, come quando c'è stato il terremoto e eravamo lì, o che sia in Ucraina, non fa alcuna differenza. Le persone soffrono e hanno bisogno di aiuto in qualunque luogo del mondo. In questo caso noi ci siamo attivati immediatamente con gli ambasciatori dell'Ucraina, della Polonia e dei paesi intorno per garantire soccorso. Abbiamo organizzato dei campi, abbiamo organizzato anche dei trasporti sanitari dall'Ucraina a Milano. Per esempio abbiamo portato una bambina da Kiev in ambulanza fino a Monza perché aveva bisogno di cure oncologiche. Abbiamo poi organizzato raccolte di medicinali, di vestiti, di kit sanitari, di cibo. Abbiamo ad oggi inviato dal Polo Logistico di Milano oltre 50 bilici, 50 tir di materiale sanitario e cibo durante questo conflitto. Adesso è arrivato l'inverno e la necessità è quella di avere un luogo riscaldato, illuminato, con la possibilità di cucinare. Questo lo si può raggiungere grazie all'energia elettrica che non c'è e scherseggia veramente tanto. Quindi le persone che ancora vivono all'interno dell'Ucraina o in prossimità delle zone di conflitto vivono in situazioni un po' arrangiate e hanno bisogno di questi generatori. Allora abbiamo lanciato una campagna che si chiama Dona Calore. Dona Calore è una campagna di raccolta di fondi e di donazioni per poter acquistare dei generatori da 5 kilowatt. Questo giustifica anche il costo piuttosto elevato del generatore perché ci sono ovviamente generatori più economici. Ma il tema è che ogni nucleo familiare ha bisogno di un generatore che possa fare tutto ciò che abbiamo detto. Quindi riscaldare le case, poter cucinare e poter tenere le case minimamente illuminate. Questo ci è permesso con un generatore da 5 kilowatt. Sui nostri canali social, Instagram, Facebook, Twitter, sul nostro stesso sito che lei mostrava poco fa, CISOM.org, ci sono le indicazioni con gli IBAN per fare le donazioni. Noi abbiamo un sistema di grande trasparenza, quindi noi pubblichiamo sul nostro sito tutte le donazioni che riceviamo per garantire una sorta di trasparenza e di legibilità, di tracciabilità di tutto quello che facciamo. Poi ovviamente comprati i nostri generatori abbiamo il polo logistico di Milano dal quale partiranno e verranno consegnati direttamente là dove noi abbiamo in modo permanente centinaia di volontari che sono sul campo per aiutare da sempre. Abbiamo sempre avuto lì un grandissimo numero di volontari, non italiani per forza perché come ho detto il CISOM ha delle agenzie di soccorso internazionali quindi ci sono il Malteser, Germania, Austria, Polonia, Ucraina stessa che organizzano, poi abbiamo i nostri volontari anche dall'Italia ma è un sistema aperto, è un sistema molto vasto. Bene, io la ringrazio intanto per averci dato la possibilità quest'oggi di aprire questa finestra interessante sull'Ordine di Malta e nello specifico sul corpo italiano di soccorso. Ecco, voi sarete sicuramente ancora presenti anche nell'ambito della nostra programmazione con eventuali aggiornamenti anche circa questa campagna in corso per l'Ucraina. Io la ringrazio e auguro a tutti voi buon lavoro anche per quest'anno. Grazie, grazie, auguri a tutti e grazie.